Abbiamo quattro mesi e mezzo per girare tutta Roma, voi sapete meglio di me che quando si va in queste trasmissioni che hanno un'audience nazionale c'è la possibilità di farsi conoscere. Per cui questo è un aspetto che va tenuto in considerazione, però poi la città deve essere anche governata.